... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciascun bus è dotato di due prese che vengono collegate ai connettori presenti su bus per effettuare la ricarica. Se non l'avete già fatto, al termine del nostro giro vi invito a salire su un bus appositamente allestito con un tappeto di erba vera per vivere un'esperienza green. ...degli autobus a idrogeno, dove, attraverso il processo di elettroisi dell'acqua, viene prodotto idrogeno stesso. Il canto è... ...degli autobus. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.